Penso che noi siamo una buonissima squadra e domenica ci sono andati contro gli episodi perché comunque anche noi abbiamo avuto delle grandi occasioni per fare gol e loro alla prima occasione su un calcio piazzato ci hanno punito e secondo me la partita loro l'hanno vinta sugli episodi. Il punto di vista fisico non ancora siamo al top e domenica comunque si è visto che la fermana comunque sul piano atletico era un pochetto superiore a noi però comunque piano piano lavorando per il campionato dovremmo essere al top e sicuramente faremo un grandissimo campionato quest'anno. Con questo modulo di Asta come ti trovi? No mi trovo molto bene, il mister ci permette molto di spingere sugli esterni, mi piace molto il gioco che fa, è un calcio offensivo, possiamo fare molto bene e possiamo dire la nostra. Sono convintissimo che noi siamo una buonissima squadra e possiamo centrare i playoff benissimo. Sì la salvezza è il nostro primo obiettivo di salvarci ma comunque la salvezza sono convinto che arriverà subito e siamo una squadra che possiamo puntare benissimo ai playoff e fare bene le posizioni avanti. Io penso che ho ancora molto da migliorare e so che posso migliorarmi tanto, penso che devo migliorare molto in fase difensiva perché ancora qualcosa devo migliorare tanto pure in fase offensiva qualche dose cerca di sbagliare, qualche cross in meno e cercare di andare più volte possibile sul fondo campo e attaccare.